Domenica 20 ottobre torna l'Intrepida, la cicloturistica d'epoca sulle strade della Battaglia di Anghiari. Il percorso parte da Piazza Baldaccio Bruni e attraversa gli splendidi paesaggi della Valtiberina. Tre i ristori previsti lungo il tracciato, a Ponte Alapiera, Castello di Sorci e Felcino Nero. È una manifestazione importantissima, l'anno scorso la prima edizione ha spopolato, per cui quest'anno la conseguenza è stata che già a 20 giorni dalla partenza hanno già aumentato gli iscritti. Per noi è un'iniziativa importante per promuovere Anghiari in un altro modo, ma sempre all'interno della nostra caratteristica, cioè quella del paese che vive e che collabora e riesce a organizzare manifestazioni grazie agli anghiaresi. Noi sinceramente quando siamo partiti si pensava che questo era un mondo che stava entrando dentro sulle biciclette, però non pensavamo a un risultato così eclatante già al primo anno. Quest'anno siamo già arrivati a averne sopra i 250, a 20 giorni dalla manifestazione, e questo però è grazie a tutto il nostro lavoro, ma grazie anche al paese che sta collaborando con noi a parte del Presidente Comunale, la Proloco di Anghiari e tutti i sponsor. Però proprio i commercianti, i abitanti si stanno calando con noi, ci stanno veramente dando una mano per poter creare un ambiente veramente che rispecchi l'epoca. Ospite speciale della manifestazione ciclistica, il campione del mondo, Maurizio Fondriest. Dopo aver partecipato alla prima edizione di Intrepida, quali sono state le sue impressioni? L'impressione più bella è di aver scoperto un borgo come quello di Anghiari. Ci ero passato vicino da corridore, avevo vinto a Citerna al Giro delle Regioni da dilettante con la Maglia Azzurra, prima Vittoria in Maglia Azzurra, però quando c'è il corridore non riesci mai a gustare il paesaggio o un borgo medievale come questo. Quindi quando sono tornato ho scoperto questo borgo, sono rimasto veramente stupito, con mia moglie l'abbiamo girato in tutti i vicoletti, in tutti questi ristorantini e siamo rimasti impressionati veramente tanto. Un canadese che già è iscritto, quindi per noi sono segnali molto positivi, molto importanti. Gente che alloggerà in diari per...